Riccardo Muti, Gianluigi Gelmetti, José Carreras, Reina Kabaivanska, Cecilia Gasdia, Vittorio Grigolo, Renato Brusson, Amy Stewart, Katia Ricciarelli, Monica Bacelli, Uto Ugi, Salvatore Accardo, Luis Pakalov. Sono alcuni dei tanti nomi di livello internazionale che hanno calcato il palcoscenico del Teatro Marruccino di Chieti negli anni in cui Aurelio Bigi era presidente della deputazione teatrale. Lo scrittore storico abruzzese in un volume di oltre 400 pagine che sarà presentato domani a Chieti riassume la storia del prestigioso teatro dal 1996 al 2006. Nel 1993 il commendatore Mario Zuccarini pubblicò un libro sulla storia del Marruccino ripercorrendo nelle tappe fino al 1992. Bigi ha proseguito i lavori arrivando al 2006 e conservandone la stessa impaginazione. Un teatro che è passato da un teatro che ospitava anche importanti produzioni a un teatro che invece produce, ha prodotto in proprio sia la lirica sia la concertistica ma anche prosa. Non a caso la nostra scommessa fu quella proprio di produrre e quindi abbiamo costituito un'orchestra, un coro, laboratorio di danza moderna, laboratorio di danze antiche, di costumi, di scene e di prosa sia per bambini che per adulti. E questo vuol dire creare una famiglia enorme intorno al teatro di affezionati. E poi sì, un'altra cosa che abbiamo fatto è scelto delle direzioni artistiche importanti. Sergio Rendine per la musica, Natalia Di Orio per la prosa, Giorgio Mancini e Maria Cristina Esposito per la danza, Maria Laura Di Petta per il dialettale, sono ecco dei punti di riferimento che hanno permesso al teatro di fare un salto di qualità, di vendare teatro lirico d'Abruzzo nel 2000, teatro di tradizione nel 2003, di avere ambiti, riconoscimenti e mondovisioni. Adesso fra poco viene Natale, Natale 2003, ci fu una nostra mondovisione con orchestra e coro da Gerusalemme e da Bettalemme. E questo è un riconoscimento importante, la Passuet Resurrezio, mondovisione, mondovisione con la messa di beatificazione di Padre Pio. In dieci anni onestamente si è fatto tantissimo. E lo devo a tutti coloro che si sono mobilitati per il teatro Maruccini, tutto il personale, artistico, tecnico, amministrativo e il pubblico che ci è sempre stato vicino.